Il primo dato che mi viene da dire è importante, questo assenteismo che sicuramente non fa bene alla democrazia perché il diritto al voto è un diritto conquistato negli anni e dovrebbe essere esercitato sempre. Poi sono contento perché noi ripartiamo da un 24,44% del 2017 e oggi essersi al momento attestati sul 42% vuol dire che il nostro progetto civico ha avuto il consenso della cittadinanza che poi logicamente si confronta con altre coalizioni. Quello che mi viene da dire è che noi abbiamo costruito un progetto dal 2017 per amministrare la città. Mi sembra invece di vedere che il mio candidato rivale, Cocciola, abbia fatto una squadra solo per mandare a casa un'amministrazione ma difficilmente una squadra coesa che possa portare avanti un progetto omogeneo e unitario. Ci tengo anche a dire che io non mai ho detto dal palco che avrei vinto al primo turno, un'affermazione che lui ha fatto poc'anzi e mentre lui ha creato un programma elettorale basato sui fondi PNRR forse a lui è sfuggito che noi abbiamo già avuto finanziamenti già impegnati e altro che stiamo per progettare finanziamenti del PNRR che riguardano lo sviluppo e la crescita della nostra città. Continueremo a parlare ai cittadini con quell'umiltà e serenità che il mio candidato, Rivale Cocciola, ha scambiato per mediocrità. Invece noi abbiamo lavorato in questi cinque anni tra tante difficoltà ma con umiltà, serietà, dedizione, impegno, ascolto, concretezza, un'amministrazione compatta e continueremo a farlo anche in caso di ballottaggio. Ecco lei sottolinea sempre che è sostenuto solo da liste civiche. Certamente, il mio progetto lo sanno tutti, è un cantiere aperto, aperto ai cittadini di Ortona che vogliono impegnarsi a prescindere dalle casacche. Noi non abbiamo casacche, il nostro è il partito dei cittadini e i cittadini hanno la possibilità di mettere a disposizione della città le proprie professionalità, le proprie risorse perché solo così credo che una città possa crescere. In caso di ballottaggio dove andrà a prendere voti? Io continuerò a parlare ai cittadini come ho fatto nei 38 comizi che abbiamo avuto in questo mese e mezzo di campagna elettorale, abbiamo cercato di far capire ai cittadini quello che avevamo fatto, soprattutto quello che vogliamo fare e cioè abbiamo messo in evidenza quella continuità amministrativa che oggi credo è fondamentale, soprattutto in questo momento storico in cui si viene da una crisi economica dovuta sia alla pandemia ma anche agli effetti della guerra in Ucraina che si sta ripercuotendo anche sul nostro territorio. Credo che quello che abbiamo detto noi vogliamo continuare a fare, cioè la continuità amministrativa credo che oggi sia fondamentale per ogni città dove si va a scegliere nuovamente l'amministrazione che dovrebbe amministrare la città nei prossimi 5 anni. Vediamo se ci sono domande da studio. Allora io faccio una sola domanda, non ci sono i partiti e questa è stata una sua scelta che in qualche modo l'ha anche premiata, però lei accetta anche i tifosi per lei, c'è qui Mauro Febbo che ha detto esplicitamente di essere un suo tifoso, anche Fina nel Partito Democratico di essere a sua volta un suo tifoso, va bene il tifo almeno Castiglione da parte di per esempio Forza Italia e Partito Democratico? Allora il direttore dice che lei ha ribadito che è tutta civica la sua coalizione, però in studio c'è Mauro Febbo che tifa per lei e anche Fina nel Partito Democratico, va bene questo supporto di tifosi di Forza Italia e PD? Io credo che la politica debba tornare a dialogare nelle sedi importanti e il mio, ripeto, lo ribadisco, è un progetto civico dove al centro vengono messe le persone, le ideologie devono avere quell'intelligenza per collaborare, per fare sintesi e per fare soprattutto gli interessi di una città. Questo è il mio pensiero di politica amministrativa perché parliamo di amministrazione, la politica forse si fa in altre sedi, noi dobbiamo pensare a sviluppare, a far crescere Ortona, dobbiamo pensare a progettare e appaltare gli 84 milioni che sono già pronti per il porto di Ortona, dobbiamo pensare a progettare i 5 milioni per i palazzi storici della città, Palazzo Corvo, Palazzo Farnese e Convento Sant'Anna, 2 milioni sul sociale, 2 milioni sull'ospedale, insomma noi pensiamo a migliorare la città mettendo al centro le persone, le persone che vogliono lavorare per questa città, questa è stata la mia campagna elettorale e la sarà anche qualora dovessimo andare al ballottaggio in un modo molto sereno e collaborativo perché credo che esempi che vengono anche da altre nazioni debbano farci riflettere, il mio progetto è questo, il cittadino lo sa e io attendo serenamente il giudizio dei cittadini.